la foresta insomma devi avere prontezza di spirito la foresta credevo fosse uno scherzo non possiamo andarci è vietato agli studenti e ci sono i lupi mannari ah c'è peggio dei lupi mannari tra quegli alberi puoi starne certo notte notte bene andiamo siamo qui vedi questo è sangue di unicorno eh sì ne ho trovato uno morto qualche settimana fa ora questo è stato ferito gravemente da qualcosa perciò è il nostro compito cercare quella povera bestia ron ermione voi venite con me va bene eri tu andrai con malfoi va bene allora prendo tor d'accordo ma ti avverto è un gran vigliacco aspetta che lo venga a sapere mio padre queste roba da domestici se non ti conoscessi bene draco direi che hai una gran fifa fifa potter hai sentito andiamo tor fifa che c'è atto cosa c'è atto che c'è atto Aaaaaah! Aaaaaah!